Il messaggio è stato ribadito forte e chiaro con autorevolezza dal consigliere delegato Mario Alberto Petranzini in occasione dell'ultima conferenza pubblica al Teatro Sociale. La Banca Popolare di Sondrio, presente con la propria rete commerciale in otto regioni d'Italia, ma intimamente legata al territorio di origine, sostiene la candidatura di Milano Cortina e dunque anche della Valtellina con Bormio Livigno e Valdidentro alle Olimpiadi Invernali del 2026. Io sono un tifoso per le cose nuove, a condizione che vengano gestite bene, per tempo, con buon senso. Dobbiamo sempre pensare che il denaro pubblico è il denaro nostro e quindi dobbiamo investirlo bene. Non deve essere una spesa perché ci sono le Olimpiadi, perché sono arrivati tanti soldini, perché oggi io penso che traguardando il 2026 dovremmo riflettere sulle infrastrutture soprattutto, agevolare chi ristruttura l'albergo, le infrastrutture stradali, anche a piccoli passi. Petranzini non dimentica, senza partigionneria ma con orgoglio di territorio, le sue origini bormine. Mentre Livigno infatti ospiterà le gare di freestyle e snowboard, oltre al villaggio olimpico, la magnifica terra sulla pista Stelvio sarà teatro delle gare maschili di sci alpino. Non dobbiamo essere provinciali, volere tutto noi e poi lavorare solo sulla polemica o sulle aspettative che non possono verificarsi. Quello che dobbiamo fare è pensare che un evento del genere, associandoci a due nomi importanti, che sono Cortina, una stazione conosciuta a livello internazionale, ma anche la Valtellina sta facendo bene, e Milano, la grande Milano. Oggi Milano è una nuova città, la città che vive anche dell'eredità di Expo, che nonostante tutto ha contribuito a cambiare questa città. auspicherei che la Valtellina potesse cambiare, ma non per diventare un qualcosa di diverso, niente, mantenere la sua identità, anzi rafforzarla per essere sempre più accogliente e più propensa a dare quel giusto valore aggiunto che la clientela si aspetta.